La porta è chiusa a chiave. Eh, ti pareva? Forse la chiave è sotto lo zerbino. No, ci sono solo vermi. Ha funzionato! Orso Bianco, pensa. Non c'è altra scelta che dare casa alle fiamme. Ma quanta fretta, amici miei orsetti! Ottimo, è una statua parlante. Scusa, che cosa stavi dicendo? Non è necessario incendiare questo edificio di legno. La dimora disabitata sarà donata a chi ne possiederà la chiave. Ma la chiave non c'è e abbiamo già provato con i vermi. C'è forse un altro tipo di verme? Orso Bianco fa chiavi con ogni verme. La chiave è nascosta nei sotterranei di quell'antichissimo tempio. Ma prenderla non è un'impresa facile. Nel tempio si trovano molte sfide complicate. Dovrete impiegare tutte le vostre risorse mentali per superare le sfide e uscire dal tempio vivi. Non sembra così difficile. Già, anch'io aspiro a ottenere quella chiave. Forse si potrà fare una gara amichevole. 3, 2, 1, via! Ma certo! Auguri! Ciao! Ecco, siamo entrati. Forza, dammi la chiave di quella casa. Aspettate ragazzi! Se qui funziona come nei videogiochi, per passare nella seconda stanza va risolto un rompicapo. Orso bianco l'ha trovato. Sembra molto difficile. Orso bianco è confuso. Non saranno tutti così complicati, vero? Il primo in realtà dovrebbe essere quello più facile. Sayonara, miei orsetti avversari. La statua? Deve averlo risolto. Veloci, veloci! Lì, vai! La statua! Ciao, ciao, orsetti! Incredibile che stia vincendo senza una guida strategica. Giusto, Panda. Ci sono guide strategiche per tutti i videogiochi, no? Forse ce n'è una anche per questo tempio. Non credo proprio che ce ne sia una anche per... Oh, wow! Invece l'ho trovata! Qui dice che ci sono tutte le soluzioni. Non sarà necessario ragionarci soltanto. Orso bianco imposta cervello in modalità sonno. Dai, scarica, bello! Hai, è a pagamento. C'è un periodo di prova gratis? Sì! Yuhuu! Casa tutta nostra, stiamo arrivando!